Amici di Sprint e Sport, buongiorno, ci troviamo sul campo del Pro Collegno, oggi Pro Collegno Pianezza 0-0, siamo col capitano Mario Novarla, ciao Mario, un commento sulla partita di oggi? È stata una partita equilibrata, secondo me, noi oggi meritavamo di più, però purtroppo nel calcio chi segna vince, per il nostro portiere probabilmente non si è neanche sporcato i guanti, però ci portiamo a casa il pareggio e ce lo teniamo. Noi ringraziamo Mario per la sua disponibilità e un saluto. Adesso ti facciamo da...